Immagina un luogo alla fine del mondo. Immagina un piccolo paradiso dai paesaggi immensi. Immagina il mondo intero tutto tuo. Immagina adesso la sua gente. Persone con il cuore e con le braccia aperte. Il Cile è come la sua gente. Il Cile è come i suoi paesaggi. Il Cile è natura aperta. Il Cile è natura aperta.